In prossimità delle feste natalizie, diversi comuni cilentani hanno pubblicato sui loro siti l'avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa, finalizzati all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus covid-19. In base al numero dei componenti e ad altri parametri, ogni famiglia ritenuta idonea può accedere all'erogazione di buoni spesa presso gli esercizi commerciali convenzionati con il comune di riferimento. Tra i paesi del Cilento che al momento hanno aderito all'iniziativa troviamo l'amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento, Mignano, Agropoli, Castellabate, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Sessa Cilento, Vibonati e Serre. Sulla home page del comune di Montecorice e sull'albo pretorio dell'ente si può scaricare l'avviso manifestazione di interesse. Il modulo editabile riservato agli esercenti commerciali del comune di Montecorice e il modulo editabile riservato ai cittadini che vogliono fare richiesta della concessione di tessera card per effettuare la spesa alimentare per se stessi e per il proprio nucleo familiare. Sul sito del comune di Camerota e Futani in questi giorni sono stati invitati i gestori delle attività che vendono generi alimentari, farmacie e altre tipologie di beni di prima necessità di comunicare la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa che il comune elargirà le famiglie in difficoltà economiche. Il comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà pubblicizzato sul sito istituzionale e comunicato ai cittadini insieme ai buoni spesa. Il modulo e le modalità per ottenere i buoni spesa da parte dei cittadini invece sarà possibile nei prossimi giorni. I principali requisiti per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti chiusura o sospensione di attività lavorativa propria o svolta in qualità di dipendente, disoccupati, inoccupati e le persone in stato di grave indigenza. Tutte le informazioni e le scadenze per partecipare sono pubblicate in maniera dettagliata sul sito istituzionale dei comuni che hanno indetto l'avviso. Inoltre alcune città come Agropoli, Capaccio Pestum, Castellabate hanno aderito alla distribuzione dei pacchi dono alimentari per le famiglie bisognose e chissà se molti cittadini come gli anni scorsi e a maggior ragione durante questo periodo difficile lasceranno un pacco in sospeso nei supermercati in segno di solidarietà come è stato fatto anche durante il primo lockdown mettendo in risalto il senso di appartenenza ad una comunità che si aiuta a vicenda nei momenti più duri, una comunità pronta a sostenersi.